Il tastiere, il maestro Antonio Cardia Ok Sassari, questa la conoscete tutti quanti Chi non canta gli arriva una cartella di Equitalia così di larga a casa Quindi è meglio cantare I want to be free I want to be free I want to be free From your angels' hope That's all it's for I need you Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima!